L'epidemia di Covid è tornata in Toscana ai livelli di aprile per numero di nuovi infettati, ma le caratteristiche del contagio sono completamente cambiate. Come spiegano i ricercatori dell'Agenzia regionale di sanità, la prima causa va ricercata nell'impatto dei positivi al Covid importati dall'estero, che rappresentano la metà dei nuovi contagiati. Nel 60% dei casi si tratta di toscani di ritorno dalle vacanze, soprattutto da Croazia, Spagna, Grecia e Malta, ma anche la percentuale dei contagiati stranieri è aumentata. Quelli ricoverati in ospedale per Covid sono passati dal 3,5% di marzo al 41% di luglio e al 30% di agosto. In compenso, nei mesi estivi, gli anziani ricoverati nelle residenze sanitarie assistite sono risultati quasi completamente immuni dall'epidemia di Covid. I dati dimostrano anche che si è abbassata moltissimo l'età media di chi contrae il nuovo coronavirus. A conferma che l'infezione si trasmette soprattutto fra i giovani, sfruttando comportamenti sociali tipici dell'età. Più persone si incontrano, più aumenta la possibilità di infettarsi. In questa fase della pandemia sono aumentati sensibilmente anche i tamponi, portando alla media toscana oltre i 6.000 test al giorno. Nelle ultime settimane, anche ricoverati in ospedale, sono in lieve aumento, ma sono dimezzati quelli che soffrono anche di patologie croniche e comunque in luglio-agosto i positivi con sintomi così gravi da richiedere al ricovero non hanno superato il 10%, con una prevalenza di uomini, probabilmente per la presenza di molti stranieri. Ma a segnare il cambiamento delle caratteristiche del contagio è soprattutto la mortalità che, nonostante l'incremento dei casi, è rimasta a valori inferiori o uguali allo 0,1% ogni milione di abitanti e in Toscana continua a diminuire. La situazione deve comunque essere tenuta sotto stretto controllo, in vista soprattutto della riapertura delle scuole.